Un protocollo d'intesa sulla legalità e sicurezza ambientale che permetterà di velocizzare i controlli ai mezzi che trasportano rifiuti tramite un'applicazione azzerando così tempi di controllo da parte delle forze dell'ordine ma che sarà anche una miglioria per le imprese regolari che potranno lavorare più serenamente. È stato sottoscritto oggi tra l'albo gestore ambientale, la sezione abruzzese dello stesso, la camera di commercio Gran Sasso e il comando regionale carabinieri forestali. Il comitato nazionale albo gestore ambientale con la sezione locale metterà a disposizione la banca dati, la camera di commercio organizzerà corsi di formazione agli addetti che procederanno alla consultazione della banca dati. All'albo sono iscritte 165 mila micro, piccole e medie imprese multinazionali e multi utiliti pubbliche che trasportano rifiuti tutti i giorni in questo paese. Oggi noi forniamo alle forze dell'ordine un'applicazione, un'app che gli consente su strada di inquadrare la targa di un mezzo che circola e trasporta rifiuti e mandarli istantaneamente sul sito dell'albo che è tutto digitalizzato dal 2017 e sapere di quel mezzo se è iscritto all'albo gestori ambientali, quali rifiuti sta trasportando, se è autorizzato a trasportare quei rifiuti, chi è responsabile legale, chi è responsabile tecnico, i mood dal 2012 a oggi. Il protocollo è importante perché permette alle forze dell'ordine di poter monitorare le imprese che hanno ovviamente che gestiscono rifiuti e accorciare anche tempi di controllo. Questo è importante anche per le imprese stesse perché eviteranno ovviamente tempi di fermo macchina e di controlli lunghi che magari a volte sono anche costosi o onerosi e quindi credo che questa sinergia in qualche modo da una parte aiuta la legalità e dall'altra aiuta anche le imprese a poter lavorare in maniera serena. Oltre alla Ballone Gizi erano presenti Gloriano Lanciotti, presidente della sezione Abruzzo dell'albo nazionale gestori ambientali e Giampiero Costantini, comandante del comando Regione Carabinieri Forestale Abruzze e Molise.